buongiorno ragazzi ben ritrovati un nuovo video strepitoso riding oggi paura poca di tratte siamo qui da partiti giro dei tre laghi e mi aspetta di tutto da panorami a single track natura fantastico venite con me a parecchio esmonso e anche solo dopo poche centinaia di metri devo dire che la fatica è già stata ripagata adesso gustiamoci anche gli interessi serva sulle foglie grazie a tutti 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 ciao ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti